Tantissima gente in centro storico a Modena, ci sono le code qui in via Emilia davanti ai negozi, è il Black Friday modenese, è cazzo allo sconto nel centro di Modena. Come sta andando il Black Friday? Sono tutti impazziti, ma sta andando bene, c'è un sacco di gente in giro e ripeto tutti i clienti sono impazziti perché hanno tutti voglia di sconti. Black Friday, ci sono le occasioni? Sì, ci sono, ci sono, sono anche un sacco di file, fino adesso ho fatto la file in un negozio, giuro, ne valeva la pena. Tanti giovani, veramente, soprattutto secondo me ha fatto molto i social perché i giovani stanno cercando effettivamente quello che è importante da acquistare, quindi lo shopping mirato che costa poco. In coda il Black Friday perché? In verità per approfittare degli sconti, però diciamo anche per divertirsi un po', per passare un po' il venerdì, fare un giro, ne approfittiamo per uscire diciamo. Si iniziano anche a fare i regali di Natale o regali per sé? Sì, in prospettiva dei regali di Natale si inizia già a pensare, insomma se si trova l'offerta perché no? Abbiamo cercato di essere più trasparenti possibili, abbiamo, domani iniziamo con le luminari di Natale, quindi si accenderanno le luci e perché non partire con un'offerta shock come oggi? Si spende di più o di meno dell'anno scorso? Forse di più, almeno io di più sicuramente. Come sta andando lo shopping? Malissimo. Perché? Non ho comprato niente. Ma c'hai le mani pieni di borse? Sono della donna. Quindi a te è andato bene lo shopping? Sì. Ci sono gli sconti? Com'è il Black Friday? Ci sono, sta andando bene. Ho approfittato al massimo di questa occasione per fare shopping sfrenato, visto che c'è il Black Friday. Ottima occasione. Grazie.